Buonasera a tutti quanti voi nell'amore di Cristo Gesù. Ti do un benvenuto e sono contento che tu sia qui e questa sera noi possiamo guardare alla parola di Dio e riflettere un tema così importante all'ordine del giorno che è il Natale. Una delle domande che spesso mi fanno è quando è nato Gesù, quando è nato il nostro Signore. Molte persone vogliono scoprire la data ma si può sapere, in poche parole possiamo dire Gesù Cristo è nato il 25 di dicembre. Questa è la domanda che molte persone fanno a me quindi noi vogliamo rispondere questa domanda. Vogliamo anche rispondere alla domanda se io sono un cristiano devo celebrare il Natale a qualcosa che io devo fare oggi? Che cosa dice la Bibbia a riguardo di questo tema importante? Stiamo subito a scoprire insieme dalla parola di Dio e anche dalla storia quello che noi possiamo capire a riguardo di questo tema così importante per la nostra vita. Allora il Natale tradizionalmente è celebrato in occidente quando? Il 25 di dicembre e questa data fu probabilmente determinata dalla metà della fine del quarto secolo quindi molto tempo fa. Questi sono indizi che noi abbiamo quindi che ci aiutano oggi a capire il perché del 25 di dicembre ciò non vuol dire se crediamo o meno che Gesù Cristo sia nato il 25 di dicembre. Inoltre alcuni gruppi seguendo il vecchio calendario giuliano ossia di Giulio Cesare osservano la festività il 25 di dicembre di quel calendario che corrisponde al 7 di gennaio nel calendario gregoriano. Voi sapete che dopo l'accisione ossia tra la chiesa occidentale ossia la chiesa romana e quella chiesa di Costantinopla ossia la chiesa ortodossa ci sono differenze ancora oggi per quanto riguarda il calendario delle festività in questo caso del Natale. Verso la fine del quarto secolo il Natale già aveva iniziato ad emergere come una festa a sé stante ossia sebbene nelle sue fasi iniziali fosse più un preludio alla celebrazione consolidata dell'Epifania quindi man mano sia questa festa verso la fine del quarto secolo quindi sta prendendo forma. Ancora non abbiamo risposto alla domanda se Gesù Cristo è nato o meno il 25 quindi stai con me andiamo avanti andiamo a scoprire insieme. A partire dal nonno secolo tuttavia forse in seguito all'incoronazione dell'imperatore Carlo Magno il giorno del Natale nell'Ottocento dopo Cristo la celebrazione del Natale divenne un qualcosa veramente molto importante per la cultura europea già di quel periodo. Si è divenne un affare più importante distinto e pubblico soprattutto per quanto riguarda il mondo occidentale si incominciava veramente a far parte della cultura delle tradizioni delle usanze dell'Europa dell'Ottocento. Gran parte di ciò che oggi è diventato un comune immaginario natalizio ad esempio il Babbo Natale e tutte queste altre cose che ci sono oggi ha origine all'inizio dell'era moderna con alcune tradizioni che sono emerse fino al XIX secolo. Quindi quando parliamo di era moderna stiamo parlando del periodo dal secolo XVIII fine secolo XVII in poi quindi questo è il periodo dell'epoca moderna. Prima di quello naturalmente è il periodo premoderno. Allora il calendario gregoriano utilizzato nella nostra epoca trae origine dal calendario romano stabilito da Giulio Cesare e si basa sull'anno solare. Questo è importante se il nostro calendario oggi quello che noi utilizziamo che è il calendario gregoriano quando noi diciamo 2020 e se Dio vuole tra poco 2021 in effetti è un calendario il calendario che è basato sul sole. Quindi un calendario solare che ha origine almeno in una prima tappa noi vedremo tra poco che è ancora più antico un calendario che è stabilito da Giulio Cesare Giulio Cesare che ha il primo grande imperatore dell'impero romano sia praticamente nel suo periodo con la nascita di Roma lui stabilisce il calendario come anno zero. Quindi da lì dopo viene fuori questo calendario di Giulio Cesare e a sua volta il calendario gregoriano che basa vedete qua sull'anno solare. Allora cari in effetti nel mondo antico molto prima di Giulio Cesare gli egizi erano i soli a fare i conti in base al tempo solare. Ossia tra tutte le nazioni semitiche del Medio Oriente orientali l'unico popolo che effettivamente o almeno maggiormente il popolo che faceva uso del calendario solare per stabilire il tempo erano gli egizi. Le altre nazioni nel vicino Oriente antico basavano tutti i loro calendari sui cicli della luna quindi un calendario lunare anziché un calendario solare. Questo è importante se noi dobbiamo fare un passo ben indietro per poter capire il perché di alcune cose oggi e per poter rispondere alla data del 25 di dicembre. Quindi rimane pure con me. Nei tempi antichi ossia nei tempi biblici il calendario ebraico il calendario di Israele era basato sull'anno lunare e quindi si può quindi dedurre che il diluvio per esempio quando noi vediamo nel libro della Genesi capitolo 7 anche capitolo 8 versetto 14 che tu ci puoi guardare dopo con calma. Durò circa 365 giorni quindi un periodo di un anno quindi gli ebrei utilizzavano un calendario lunare mentre invece gli egizi usavano un calendario solare. Quindi già qui c'è una grande differenza. Il calendario ebraico sebbene basato sull'anno lunare fu fortemente influenzato dalle posizioni del sole quindi anche Israele prendeva spunto ossia di un calendario solare in alcune occasioni come per esempio alla posizione del sole come si può vedere dalla disposizione delle feste religiose. Quindi quando c'era una determinata festa si basava anche nel calendario solare molto importante. L'anno nuovo. L'anno nuovo degli ebrei. L'anno nuovo degli antichi ebrei iniziò in autunno. Quindi secondo primo re capitolo 12 versetto 32 fu celebrata nel regno di Israele un mese dopo che nel regno di Giuda. Quindi anche qui ancora oggi gli ebrei hanno l'anno nuovo tra il periodo diciamo del fine raccolto ossia tra settembre e ottobre in base al calendario perché usando ancora in un certo modo un'influenza di un calendario lunare ossia Israele vede ossia il passaggio dell'anno non nel 31 di dicembre però nel periodo tra ottobre e settembre questi due mesi in base all'anno può cambiare la data. Ok? Ancora oggi è così. In Babilonia inoltre in autunno si celebrava quindi non soltanto in Israele ma anche in Babilonia si celebrava il capodanno civico ma accanto ad esso era un altro. C'era un altro si è celebrato in primavera che ebbe origine in Babilonia e segnava l'inizio dell'anno religioso. Quindi c'è un'influenza anche della Babilonia in un certo qual modo nella cultura e nel calendario ebraico. Da una parte esiste un anno nuovo civico accanto ad esso c'era un calendario anche della primavera come l'inizio dell'anno. Quindi due due punti no di inizio e di fine. Abbiamo la primavera però abbiamo anche l'anno nuovo con la fine con la fine del raccolto. Ok? Quindi anche questo è interessante osservare. In Israele il calendario religioso seguiva il ciclo delle feste annuali. La prima dell'anno religioso era la Pasqua. Quindi l'anno incomincia dal punto di vista religioso con la celebrazione della Pasqua, Pasqua per il popolo ebreo. Il nuovo anno accadeva quindi nel giorno della luna nuova nel mese di Nisan, che è il primo mese per il calendario ebraico. Quindi vedete come il discorso, no? Dal punto di vista i romani avevano un calendario, i babilonesi avevano un calendario, gli ebrei avevano un calendario, gli antichi egizi avevano un calendario. Quindi questo è importante mettere davanti a noi per incominciare a capire il discorso del tempo, contare i giorni, la data, perché è facile affermare una data, ma come effettivamente calcolare questa data? È per questo motivo che stiamo dando un'occhiata breve. Allora, inoltre, sembra che un anno che inizia in autunno si basi sui bisogni di una società agricola. Naturalmente, quando noi pensiamo al popolo di Dio o al popolo che viveva nel mondo antico, tutto si basava molto sulla agricoltura. Quindi la società era basata in base a questo calendario. E la festa del raduno, che è la festa di fine dell'anno, quando ti sei accorto delle tue fatiche fuori dal campo. Quindi Esodo 23, versetto 16, ossia c'era un tempo per chiudere l'anno e quindi quando si chiudeva il raccolto. Quindi parliamo la fine di settembre, fine di ottobre all'incirca, quindi era il periodo della fine dell'anno per questi popoli già nel mondo antico. Oggi molte cose sono cambiate perché viviamo in un mondo industrializzato, almeno in grande parte, quindi molte cose sono cambiate. Allora, inoltre, il giubileo, io non parlo del giubileo della Chiesa Romana, ma intendo di quello di Israele, è chiaramente un'istituzione economica ed è iniziato anche in autunno. Vedete qua, nel settimo mese, quando si celebrava il nuovo anno, quindi Levitico 25, versetto 9. Questi versetti che io sto citando non mi sto soffermando più di tanto, perché il nostro obiettivo è quello di analizzare la data, la possibile data della nascita di Cristo. Questo non vuol dire che tu dopo non possa, anzi, ti incoraggio, vai a verificare ogni brano e studiare in maniera ancora più approfondita. Andiamo avanti. Allora, dall'altra parte, ci sono molte prove nella Bibbia per mostrare che la Pasqua ebraica era considerata la prima festa in un ciclo che terminava con la festa dei tabernacoli. Quindi, tra le sette feste di Israele, la prima è di sicuro questa festa della Pasqua, quindi l'anno religioso, diciamo così, incominciava tra marzo e aprile, mentre invece l'anno civico era, ossia lì, la fine era tra settembre e ottobre, quindi quando dopo incominciava l'anno nuovo, cosa che di nuovo Israele celebra l'anno nuovo ancora oggi tra il mese di settembre e di ottobre. Ok, quindi anche qua vedete che ci sono dei brani che puoi leggere, sia Levitico, capitolo 23, e anche Deuteronomio, capitolo 16. Nel periodo romano, quindi passando, lasciando un po' gli Egizi, lasciando i babilonesi, il popolo di Israele, andiamo nel periodo romano, quindi il periodo romano. Noi sappiamo che Roma è incominciata a esistere, parliamo all'incirca dell'anno tra 600 e 500 avanti Cristo, però già molto dopo, nel periodo romano, il calcolo ufficiale del tempo in Giudea seguiva il calendario giuliano ideato nel 47 avanti Cristo. Quindi parliamo di Giulio Cesare, che ha stabilito questo calendario dopo la successione, ossia dopo che i greci, anche con Alessandro Magno, avevano dominato anche il Medio Oriente, è venuto un periodo in cui soltanto gli ebrei per circa 100 anni hanno dominato anche il periodo, hanno guidato, hanno governato Israele, dopodiché sono subentrati i romani, che venivano con gran forza per dominare tutto il mondo antico. In questo periodo, quindi 47 anni avanti Cristo, è instaurato in maniera ufficiale, anche in quello che noi chiamiamo Canaan, il calendario giuliano o il calendario di Giulio Cesare, un calendario romano. Quindi guarda qua, quando Gesù nasce già era in pratica, in uso, un calendario giuliano, un calendario romano, per così dire. Cesare istituì un nuovo calendario solare, quindi Israele che usava un calendario lunare, qua arrivano i romani, è istituito un calendario solare di 365 giorni e un quarto di giorno a partire dal primo gennaio della 47 avanti Cristo. Quindi dal 47 avanti Cristo, primo gennaio, incomincia questo calendario a essere istituito e quindi la gente doveva seguire questo calendario. Naturalmente gli ebrei seguivano anche il loro calendario, soprattutto dal punto di vista religioso, però dal punto di vista civile molto adesso c'è un'influenza, come prima c'era stata un'influenza ellenica, ossia greca, ora c'è un'influenza romana nella vita anche degli ebrei e della terra santa, dove il Signore Cristo Gesù è nato, si è incarnato. Allora, sebbene la maggior parte degli inconvenienti precedenti fossero stati superati in questo nuovo calendario, non era ancora abbastanza preciso. Quindi loro dicevano, noi abbiamo fatto un calendario, ma non era ancora perfetto questo calendario. E quindi ancora nell'anno 325 d.C. c'era una differenza di quattro giorni tra l'anno giuliano e il vero anno solare, ossia il calendario di Giulio Cesare era in defiance, ossia c'era questa differenza di quattro giorni, quindi quattro giorni tra un anno e l'altro, quindi alla fine, ossia tu vedi che va ad aumentare, no? Quindi la differenza c'era un ritardo, quindi praticamente per farvi capire, c'era una differenza di quattro giorni tra l'anno giuliano e il vero anno solare. E che cosa comportava questo? Così che l'equinozio di primavera cade il 21 marzo invece che il 25 marzo. Quindi tutto questo, con il passare del tempo, la differenza aumentava sempre di più. Quindi il calendario non era più preciso. Il sistema giuliano fu però rivisto nel 1582 dal padre Gregorio XIII. Quindi per questo il calendario romano o giuliano di Giulio Cesare, oggi è chiamato il calendario gregoriano perché il papa Gregorio nel 1582, quindi guarda quanti anni sono passati e quante defaianze c'era, quindi hanno detto senti qua noi dobbiamo sistemare, dobbiamo ricalcolare il nostro calendario. Quindi allora dieci giorni furono omessi da quell'anno e nuove regole dell'anno bisestile, prevenirono ulteriore errore. Questo per esempio noi, voi sapete che noi usando un calendario solare e un calendario anche bisestile, noi sappiamo che per esempio ogni quattro anni noi abbiamo che cosa? Un giorno in più nel mese di febbraio. Quindi chi è nato nel 29 di febbraio fa il compleanno, non tutti gli anni, ma ogni volta ogni quattro anni. Non è vero se alla fine dopo, io non so esattamente, ma secondo me al comune si dirà che è nato il 28, perché il 28 ci sono tutti gli anni. Però questa è una cosa che tu puoi cercare e io posso cercare magari in un secondo momento. Allora inoltre, da quel momento, da quel momento che il calendario gregoriano è stato rivisto, quindi noi vediamo questo, se da questo momento, noi vediamo anche un'altra cosa importante, ancora prima, quindi molto prima del 1500, in effetti nella 500 dopo Cristo, 525 per più precisione, non Papa Gregoriano, Papa Gregorio, scusate, ma il Papa Giovanni I chiese a un monaco, a scita di nome Dionisio, di preparare un calendario standard per la Chiesa occidentale, che sarebbe stato calcolato dalla nascita di Cristo. Dionisio si basò sul calendario romano, ossia Giuliano, che sulle informazioni disponibili sulla data della fondazione della città di Roma, per calcolare la data della nascita di Cristo. Quindi noi abbiamo il calendario gregoriano, che molto prima ancora, con il Papa, questo Papa, come ho detto prima, il Papa Giovanni I, nel 500 avanti Cristo, 525 avanti Cristo, chiede a questo monaco, di nome Dionisio, di calcolare la data della nascita di Cristo. Quindi qua incominciamo a entrare proprio nell'argomento del 25 di dicembre. Nel calendario, nel calendario di Ogini, ossia il primo dopo Cristo, era fissato l'anno Urbis, anno Urbis Conditai, cioè dalla fondazione della città di Roma. Ok? Quindi questo è l'anno della fondazione della città di Roma. e che cosa ha fatto lui? Quindi lui calcolando questo primo anno, ossia della fondazione della città di Roma, e dopo analizzando il compleanno di Gesù, fissato il 25 di dicembre. Ok? Quindi lui ha fissato questo, ossia come l'anno in cui Cristo Gesù è nato. Quindi secondo un calcolo, secondo, diciamo così, informazione che lui aveva, secondo, diciamo, la data di nascita della città di Roma. Quindi, devo dire la verità, un po' di confusione qua c'è. Quindi non era molto chiaro questa cosa. E allora, guardiamo avanti che cosa succede. Sfortunatamente Dionisio calcolò male la nascita di Gesù, perché i Vangeli affermano che Gesù nacque durante il regno di Erode, il grande che morì prima della fine dell'era e le stime vanno dal 4 all'1 avanti Cristo circa. Quindi, oh no! Lui cercava di risolvere, però in effetti la cosa, ossia è venuta fuori con un problema molto, molto, molto difficile. perché non tenendo conto piuttosto i Vangeli e l'informazione che i Vangeli ci danno, lui ha guardato piuttosto la storia di Roma anziché la storia del momento in cui Israele stava vivendo, che erano i governatori per capire le date e quant'altro. E che cosa è successo? Quindi Gesù Cristo, secondo la data, ossia da quello che noi abbiamo oggi, non è nato nell'anno zero. Calcola con me adesso, ma lui è nato, come ho scritto qua, da 4 a, o anche prima, avanti Cristo, ossia da 4 o addirittura prima, come adesso noi vedremo tra poco. Quindi Gesù è nato 4 anni avanti Cristo. Quindi è un'assurdità. Ancora oggi il nostro calendario è sbagliato, non è un calendario preciso. Allora, andiamo qua. Quindi storicamente si arriva con l'anomalia della nascita di Gesù diversi anni prima di Cristo. Quindi è una cosa assurda. Però questa è storia, questo è quello che accade oggi nel nostro calendario. Quindi anche dire che oggi è 2020, in effetti, è di più, ok? Dal punto di vista, se vogliamo calcolare, usando soltanto il calendario romano o gregoriano, esiste una defaianza qua di 4, 5, e forse addirittura 6 anni, ok? Quindi questa è la realtà. Inoltre, diversi fattori chiavi nei Vangeli forniscono informazioni che consentono datare più precisamente la nascita di Cristo. Quindi se vogliamo capire bene la data della nascita di Cristo, più che guardare la storia di Roma, la fondazione di Roma, noi dobbiamo guardare la storia di Cristo che viene raccontata nei Vangeli ed è lì che noi possiamo attingere tutta l'informazione necessaria. Per esempio, quali sono alcuni di questi fattori che definiscono la data della nascita di Cristo? Voglio citarne alcune che tu possa anche ricercare. Per esempio, la morte di Erode, quando è nato e quando è morto Erode, il censimento Quirinio, che noi vediamo anche in Luca capitolo 2 da 1 a 2, all'inizio del ministerio di Giovanni Battista, quindi Luca capitolo 3 versetto 1, e poi unendo questo all'informazione dell'età di Gesù in Luca 3, 23, è il momento della visita dei magi, quando i magi sono venuti per onorare e adorare il Signore Gesù, in quel momento bambino, in Matteo capitolo 2 da versetto 9 al versetto 12. Allora, tutto questo correlato alla stella che li ha guidati, ossia che ha guidati i magi fino alla persona di Gesù Cristo. Allora, cari, guardate che questi sono i veri punti di riferimento che ci possono aiutare. Quindi, voi vedrete, per esempio, che secondo la morte di Erode nel 4 avanti Cristo, il primo giorno della Pasqua ebraica sarebbe stato l'11 di aprile, perché questo sarebbe l'inizio dell'anno religioso ebraico. Pertanto, è probabile che Erode morì tra il 12 marzo e l'11 aprile del 4 avanti Cristo. Poiché Gesù nacque durante il regno di Erode ciò significa che Gesù nacque qualche tempo prima del marzo del 4 avanti Cristo. Voi vi ricorderete che Erode, per esempio, nella paura di perdere il suo regno per il re dei giudei che è Cristo, lui non sapendo dove si trovava Gesù ha detto bisogna uccidere i bambini dai 0 fino a 2 anni. Quindi, se noi prendiamo anche questi 2 anni, che cosa noi possiamo capire e immaginare qua come una possibilità, ok? non sono categorico perché qua noi stiamo andando sia su informazioni bibliche e anche storiche per calcolare. Quindi, prendendo in considerazione la morte di Erode, il grande e il censimento di Quirinio, il ministero di Giovanni Battista, il ministero pubblico di Gesù e la visita dei magi porta alla conclusione che Gesù nacque a Betleme da qualche parte tra e qua vorrei sottolineare, guardate qua, tra il 5 e il 6 avanti Cristo. Quindi, noi vediamo sia che qua c'è davvero una grande differenza, una grande differenza che noi troviamo sia nella persona di Cristo per quanto riguarda la data. Quindi, c'è un errore, se noi non possiamo affermare che è il 25 di dicembre. Quindi, è veramente molto difficile questa cosa qua. Allora, al contrario, al contrario, sono numerosi i riferimenti a lui come personaggio storico morto per mano di Ponzio Pilato. Quindi, che cosa vuol dire questo? Noi non abbiamo indizi, molti indizi di quando l'anno la data precisa quando è nato Gesù. Se te vai al comune o magari hai la carta di identità, qualcuno hai bisogno di fare, che ne so, un colloquio di lavoro, deve dare la tua carta di identità o deve fare un corso e ti chiedono quando sei nato. Tu sai a memoria la data della tua nascita, almeno spero, magari sei nato così tanto tempo che non ti ricordi neanche più. Allora, tu hai la data di nascita precisa. Noi non abbiamo qui oggi la carta di identità di Gesù. Però noi guardiamo il Vangelo o i quattro Vangeli e da questi riferimenti noi possiamo comprendere molto. Una delle cose che noi possiamo usare è l'informazione, noi abbiamo più informazioni della morte di Cristo. Quindi, in base alla data della morte, del sacrificio del nostro Signore Gesù per i nostri peccati, noi riusciamo ossia a calcolare orientativamente l'anno in cui è nato, l'anno, ok? Poi, tenendo presente l'errore, la differenza tra questi calendari, noi calendario gregoriano, poi a sua volta il calendario romano, quindi bisogna un attimino calcolare bene. Quindi, alcuni notarono addirittura che si diceva che fosse risorto dai morti e che fosse adorato come un Dio da tutti coloro che lo seguivano. Gary Habernas ne discute esaustivamente. Citazioni di storici e altre fonti si trovano nell'articolo del Nuovo Testamento fonti e anche fonti non cristiane dove noi possiamo attingere informazioni importanti per noi. Quindi, cari, Gesù Cristo è nato il 25 di dicembre. Io non credo personalmente che sia nato. Se è nato il 25 di dicembre, gloria a Dio. Se non è nato il 25 di dicembre, immaginiamo che Gesù fosse nato il 25 di agosto. Neanche questo credo perché magari sarebbe un'altra data. È difficile sapere con esattezza però sia glorificato il nome del Signore lo stesso. Non è se io so o non so la data. Allora diciamo ma Fabiano se noi non sappiamo che Gesù Cristo è nato il 25 di dicembre io ossia qual è l'origine di questo Natale che il mondo soprattutto occidentale celebra nei nostri giorni. Quindi qual è l'origine di questo Natale? Allora qui noi abbiamo bisogno di rispondere a questa seconda domanda. La prima Gesù è nato il 25 di dicembre molto probabilmente no. Noi non abbiamo modo di affermare ossia di arrivare questa data. Ci saranno persone che useranno altri argomenti per cercare soprattutto la Chiesa Romana per cercare di dimostrare che Gesù Cristo sia nato anche perché sono stati sempre loro a calcolare questo calendario quindi ci sono argomenti ma che sono argomenti è un po' come arrampicarsi agli specchi qual è l'origine del Natale invece? L'origine del Natale cari o caro amico amica che sei qui con me Natale è una festa popolare di dicembre che è celebrata da un gran numero di persone in tutto il mondo è noto da tempo come la celebrazione della nascita di Cristo avvenuta oltre 2000 anni fa quindi per noi che viviamo oggi nel ventunesimo secolo ma la maggior parte di noi che siamo nati o almeno grande parte che siamo nati nel ventesimo secolo è sempre stato così il Natale è dicembre è quando si celebra questa festa popolare della nascita del ricordo della nascita del Cristo ma nel secondo secolo questa è una questione storica nel secondo secolo dopo Cristo uno storico cristiano romano di nome Sesto Giulio Africano calcolò ci sono sempre le persone che calcolano la data della nascita di Gesù fosse il 25 di dicembre quindi questo storico cristiano di Sesto Giulio Africano ha fatto i calcoli io non so dirvi adesso esattamente in base a che cosa ha fatto questi calcoli però lui ha calcolato che Gesù Cristo fosse nato il 25 di dicembre e quindi lui credeva che Gesù Cristo fosse nato in questa giornata del 25 di dicembre a quel tempo la cultura romana ok stiamo parlando di quello secondo secolo celebrava già un'altra festa il 25 di dicembre esattamente questo questo storico ha calcolato la data Gesù è nato il 25 dicembre però già a Roma si celebrava un'altra festa romana e si celebrava la festa il 25 di dicembre a Saturnalia chi era questo questo qui era il solstizio d'inverno ossia questa era una tradizione che onorava Saturno quindi una festa pagana il dio dell'agricoltura ed era celebrata con gioia guarda bene banchetti e donazioni quando alla fine Roma istituì il cristianesimo come religione dello stato questo nel quarto secolo la chiesa romana cosa ha fatto convertì i Saturnali in una festa cristiana per commemorare la nascita di Gesù da allora i cristiani lo hanno celebrato come tale quindi l'origine della festa di Natale o del 25 di dicembre non c'entra niente con la persona di Gesù era piuttosto una festa pagana quindi guarda ai 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 adesso Fabiano io questo non lo sapevo e allora come devo comportarmi in questa cosa qua allora la domanda che noi dobbiamo fare è poiché il Natale la domanda che viene è questa se il Natale ha le sue origini nelle tradizioni pagane è accettabile che i cristiani celebrano il Natale è accettabile che io in qualità di credente vada a celebrare il Natale il 25 di dicembre si può celebrare Fabiano io che cosa devo fare in qualità di cristiano che cerco ogni giorno di imparare dal Signore dal Messia e essere fedele alla sua parola ecco questa è una bella domanda caldissima bollente che vogliamo rispondere adesso allora resta il fatto che fai molta attenzione che sebbene il Natale abbia alcune associazioni con una festa secolare i cristiani lo celebrano ancora per ricordare la nascita del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo quindi se celebro il Natale non è per ricordare Saturnalia ma è per ricordare la nascita del nostro Signore Gesù Cristo perché noi apparteniamo se tu hai accettato Cristo hai avuto fede nel Signore appartiene a Cristo amen può essere anche una questione di coscienza quindi qua noi non vogliamo obbligare nessuno però guarda bene quello che dice la parola di Dio è una questione di coscienza perché come Paolo afferma in prima corinzia capitolo 10 versetto 23 tutto è lecito ma non tutto è benefico tutto è lecito ma non tutto è costruttivo facendo un po' una parafrasi di quello che ha detto l'Apostolo Paolo qua nella sua prima lettera ai corinzi quindi prima corinzia capitolo 10 versetto 23 io devo io sono libero davanti al Signore ma io devo avere ossia la mia coscienza guidata dalla parola dallo Spirito Santo dalla mia comunione con il Signore io devo capire quello che è della volontà di Dio quello che porta gloria a Dio e quello che non porta gloria a Dio quello che edifica la mia vita e la vita delle persone che sono a fianco a me prima di prendere una decisione o anche di giudicare il mio prossimo che magari pensa diversamente però tra poco ne parleremo di questo allora ci sono molti altri che credono che la festa del Natale sia stata riscattata a causa del significato più profondo che le è stato dato quindi noi crediamo sia che il Natale è una festa estremamente profonda e noi vogliamo sia celebrare questa festa queste persone che credono in questo modo continuano a celebrare il Natale sulla base delle parole di Paolo che più avanti nel brano quindi lui dice qui vi sia che tu che sia che tu mangi o bevi o qualunque cosa tu faccia fai tutto per la gloria di Dio sempre quindi nella sua prima lettera ai Corinzi nel capitolo 10 l'Apostolo Paolo sta dicendo se tu fai qualcosa fai per la gloria del Signore se non puoi portare gloria a Dio in quella cosa che stai facendo è meglio che non la fai però di nuovo andiamo alla nostra domanda i cristiani veri quelli discepoli di Cristo dovrebbero celebrare il Natale il 25 di dicembre no? allora il dibattito sull'opportunità o meno di celebrare il Natale da parte dei cristiani è una cosa che da secoli ossia c'è questo dibattito perché noi vediamo ossia che esistono due gruppi quelli che sono favorevoli a celebrare il Natale cosa che io dico Natale per un cristiano vero per un discepolo di Gesù va dal primo di gennaio al 31 di dicembre tutti i giorni può essere Natale andiamo a celebrare Natale il 25 di agosto o il 25 di aprile o il 25 di settembre ossia non c'è nessuna differenza davanti a Dio quindi il discorso di celebrare il Natale c'è quelle che sono favorevoli e ci sono un altro gruppo di persone sempre all'interno della chiesa cristiana esparsa nel mondo che sono ugualmente sinceri ma che ritengono che non deva essere celebrato ok quindi ci sono quindi tu sicuramente avrai già incontrato persone che sono favorevoli e persone che non sono favorevoli alla celebrazione del Natale qua io darò tra poco la mia opinione personale quindi rimane con me non andare via allora ma che cosa dice la Bibbia la Bibbia dà indicazioni chiare sul fatto che il Natale sia una festa che i cristiani dovrebbero celebrare che cosa dice la parola di Dio allora un argomento contro il Natale almeno dal punto di vista da coloro che credono che non si debba celebrare il Natale è che ci sono tradizioni che circondano il Natale che hanno origini nel paganesimo allora se il Natale ha un'origine almeno questa festa del 25 di dicembre perché il Natale è vero che è Cristo nato quella è una benedizione da parte di Dio per il mondo però per le persone che guardano soltanto il punto di vista storico diciamo questo del 25 di dicembre no l'origine pagana era la festa Saturnalia non devo partecipare quindi come mi devo comportare allora la ricerca di informazioni affidabili su questo argomento è difficile allora fai attenzione a quello che sto dicendo perché perché le origini di molte delle nostre tradizioni sono così oscure che le fonti spesso si contraddicono a vicenda ci sono persone che sono che hanno un'opinione e quindi ci sono informazioni che a volte si contraddicono ossia che è difficile capire e quindi è difficile molto spesso capire bene l'origine delle cose quindi il discorso delle campane le candele agrifoglio decorazioni natalizie che sono menzionate nella storia ok e nel culto pagano ma l'uso di tali decorazioni in casa non indica un certo ritorno al paganesimo quindi noi possiamo affermare questo magari ci sono persone che sono molto più legalisti da questo punto di vista qua molto più fiscali quindi magari diciamo una persona dirà che no se tu usi un determinato adobo una decorazione di questo genere tu sei un pagano sarà veramente così quindi è da riflettere poi inoltre la nascita del salvatore del mondo a Betleme si suonavano le campane per risuonare la gioiosa notizia quindi questa tradizione non le campane discorso delle campane ossia vuol dire esattamente questo e non solo si accendono le candele per ricordarci che Cristo Gesù è la luce del mondo quindi un altro motivo in questo caso per chi piace mettere una candela oppure una stela viene posta sulla cima di un albero di Natale per ricordare la stela di Betleme e vengono scambiati i doni per ricordarci i doni dei magi a Gesù il più grande dono di Dio dell'umanità quindi questi sono gli argomenti a favore di chi è a favore della festa del Natale contro coloro che pensano che sia soltanto una festa pagana quindi di nuovo ci sono due gruppi maggiormente due opinioni diverse un altro argomento contro il Natale contro tra virgolette il Natale è che avere un albero di Natale è che nella Bibbia si proibisce avere un albero di Natale quindi ci sono persone che dicono no io ti faccio vedere nella Bibbia che il Signore è contrario ad avere un albero di Natale e che cosa si usa quale brano si usa allora si usa il brano che spesso viene citato è il brano di Geremia capitolo 10 se tu dopo lo leggi bene io posso anche fare una lettura molto breve qua dice ascoltate la parola che il Signore vi rivolge casa di Israele così parla il Signore non imparate a camminare nella via delle nazioni non abbiate paura dei segni del cielo perché sono le nazioni quelle che ne hanno paura infatti i costumi del popolo sono vanità poiché si taglia un albero nella foresta quindi fai attenzione e le mani dell'operaio lo lavorano con l'ascia e lo si adorna d'argento di oro le si fissa con i chiodi con i martelli perché non si muova gli idoli sono come spauracchi in un campo di cocomeri e non parlano bisogna portarli perché non possono camminare non li temete perché non possono fare nessun male e non è il loro potere di fare del bene quindi non si possono fare né bene né male non c'è nessuno pari a te o signore dice il profeta giustamente il profeta Geremia e dice tu sei grande e grande in potenza è il tuo nome chi non ti temerebbe il re delle nazioni poiché questo ti è dovuto poiché fra tutti i saggi delle nazioni in tutti i loro regni non c'è nessuno pari a te ma costoro tutti insieme sono i stupidi e insensati non è che una dottrina di vanità non è che altro che legno argento battuto le lastre portano portato da Tarsis oro venduto da Ufas opera di scultore e di mano di orefici sono vestiti di porpora e di scarlato sono tutti lavoro di abili artefici ma il Signore è il vero Dio egli è il Dio vivente il re eterno per la sua ira trema la terra e le nazioni non possono resistere davanti al suo sdegno dice la parola del Signore così direte a tutti loro gli dei che non hanno fatto i cieli e la terra scompariranno dalla terra e da sotto i cieli egli con la sua potenza ha fatto la terra con la sua saggezza ha stabilito fermamente il mondo con la sua intelligenza ha disteso i cieli quando fa udire la sua voce c'è un rumore d'acqua nel cielo egli fa salire il vapore dell'estremità della terra e fa guizzare i lampi per la gioia e si sprigiona il vento dai suoi serbatoi ogni uomo allora diventa stupido privo di conoscenza ogni orafo ha vergogna delle sue immagini scolpite perché le sue immagini fuse sono menzogna e non c'è soffio vitale in loro sono vanità lavoro inganno nel giorno del castigo per irano a loro non somiglia colui che è la parte di Giacobbe perché egli ha formato tutte le cose e Israele è la tribù della sua eredità il suo nome è il Signore dell'esercito quindi parola del nostro Signore poi potresti anche leggere Isaia capitolo 44 e quindi qua si sta parlando di un albero qua si sta parlando di addobbare un albero qua si sta parlando di fare ossia con l'asce ossia fare quindi prendere questo e fare per creare un idolo e quindi alla decorazione dell'idolo con argento oro quindi loro vedi non si può avere un albero di Natale però caro fratello cara sorella il brando di Geremia non può essere estrappolato dal suo contesto è usato come un argomento legittimo contro un albero di Natale lì non si sta parlando di Natale lì non si sta parlando di un albero di Natale ma lì si sta parlando di gente che prendeva l'albero e ne costruiva un idolo per adorare all'idolo io non credo che magari te che conosci Cristo e che celebri il vero Natale Cristo Gesù che è nato nel nostro cuore non deve essere nato in una mangiatoia perché è nato una sola volta e deve crescere adesso nella mia vita nella santificazione nella guida dello Spirito Santo attraverso la direzione della parola di Dio però noi non facciamo adorazione a nessun albero quindi io non posso usare un testo per un pretesto per usare questo come se fosse un motivo per non avere un albero di Natale a casa quindi i cristiani che scelgono di ignorare il Natale ossia quelle che sono contrari alla festa del Natale mi raccomando non mangiate neanche il panettone però sottolineano il fatto che la Bibbia non ci dà la data della nascita di Cristo allora se non sappiamo la data quindi non bisogna celebrare quindi che certamente è vero se noi non abbiamo la data il 25 di dicembre potrebbero essere nemmeno vicino al tempo in cui nacque Gesù Cristo ok e quindi le discussioni da entrambi i parti sono infinite chi dice no Gesù è nato noi sappiamo che lui è nato assolutamente almeno questo siamo d'accordo Gesù Cristo è nato però quelle che dicono Gesù è nato il 25 di dicembre Gesù non è nato il 25 di dicembre e quindi ci sono differenze ci pensa per esempio al discorso del clima le stagioni dell'anno il discorso del pastore come mai facevano i pastori con le pecore durante l'inverno il 25 di dicembre quindi è una situazione un po diversa anomala per quanto riguarda la data però il punto è che nessuno di queste opinioni è privo di una certa quantità di congetture e che vuol dire che ci porta al fatto che la Bibbia non dice quando nacque Gesù noi non sappiamo molto probabilmente non è nato il 25 di dicembre io personalmente non credo a questo però ciò non vuol dire che noi non possiamo celebrare oggi alcuni vedono questo come una prova positiva che Dio non voleva che celebrassimo la nascita mentre altri vedono il silenzio della Bibbia sulla questione come una tacita approvazione ossia se la Bibbia non vieta quindi non vuol dire che io non debba lodare il Signore per esempio le domande che io dico alle persone di fare sono queste se io celebro in questo caso il Natale porta gloria a Dio se io uso il Natale come un'occasione per parlare della nascita di Cristo successa più di duemila anni fa porta alle persone che sono attorno a me un'occasione per ascoltare la parola di Dio ossia io edifico le persone che sono i miei altri fratelli cristiani nella fede quindi io devo vedere le mie risposte sincere davanti alla parola e davanti al Signore allora ci sono persone che pensano diversamente alcuni cristiani dicono che dal momento che il mondo celebra il Natale sebbene stia diventato sempre più politicamente corretto chiamarlo le festività perché in alcune nazioni faccio un esempio in Canada o magari in alcune zone degli Stati Uniti o anche in Italia per esempio magari cosa che a scuola prima si parlava più del Natale adesso con le tante religioni che esistono dei bambini nella scuola non si può più parlare del Natale bisogna essere politicamente corretto questo è sbagliato perché noi dobbiamo predicare e parlare del Signore ognuno può avere la sua opinione però non è perché l'altro ha un'opinione diversa che io non debba parlare che Dio ha mandato suo figlio nel mondo per riscattare l'umanità dai suoi peccati quindi molti usano questo termine qua questo assolutamente non è il modo in cui noi pensiamo ma questo stesso argomento fatto dalle false religioni che negano che tutto Cristo ossia che Cristo sia nato come i culti per esempio come i testimoni di Genova di Geova almeno dice bene il loro nome Fabiano allora questi testimoni qua negano che Gesù Cristo sia davvero il Signore ossia che lui sia della stessa sostanza no della homogenes ossia che sia che è nato che è nato nel senso che Gesù Cristo sia incarnato ma Gesù Cristo è Dio perché lui è il Logos che è eterno prima della fondazione del mondo Signore Gesù è da eternità in eternità pienamente Dio loro negano quindi se già esistono persone che negano la divinità di Cristo e altri che dicono che noi politicamente corretti non possiamo parlare più del Natale io che cosa devo fare devo tacere non devo parlare del Natale quei cristiani che celebro il Natale spesso vedono un'occasione una opportunità per proclamare Cristo qua caro amico caro fratello e sorella questo è quello che io vedo ossia io quando vedo il periodo io posso parlare di Natale il 25 di agosto il 25 di maggio il 25 di aprile il 25 di luglio il 25 di settembre ma anche il 25 di dicembre io vedo questo come una occasione per parlare una opportunità per proclamare Cristo e questo è il motivo per il quale noi vogliamo predicare parlare dell'amore di Cristo Gesù e se non lo stai facendo stai perdendo il tempo e l'opportunità di predicare il nome del nostro Signore Cristo Gesù perché questa è la sua volontà quindi come noi abbiamo visto non esiste un motivo o un argomento biblico che dica che io debba celebrare il 25 di dicembre come allo stesso tempo non c'è nessun comandamento nella Bibbia che mi vieta di celebrare il vero Natale in Cristo Gesù alla fine ovviamente se celebrare o meno il Natale è la tua decisione personale una cosa che mi piace Fabiano ma tu che cosa ne pensi sì io ho la mia opinione personale e chi mi conosce sa che cosa penso a riguardo io sono favorevole a questo tempo a parlare quanto più più di più tutto quello che si possa parlare del Natale stiamo parlando del Natale proprio qua adesso durante il mese di dicembre però tu devi essere responsabile davanti a Dio il mio compito è quello di offrirti e darti indizi di darti insegnamento e portarti verso la maturità nella parola di Dio ma tu sei responsabile davanti a Dio per capire e per decidere cosa fare il Signore ci dà nella sua parola insegnamento più che sufficiente per capire come dobbiamo fare allora qualunque cosa i cristiani decidono di fare riguardo al Natale le loro opinioni non dovrebbero essere usate come un motivo per picchiarci diciamo così metaforicamente parlando naturalmente o denegrire ossia coloro che hanno opinioni opposte se una ma tu celebri Natale ma tu non celebri Natale allora non parlo più con te questa è una cosa molto italiana molto infantile devo dire e molto anticristiana ossia se una persona pensa che il Natale non si debba celebrare il 25 e neanche nessun giorno dell'anno io lo rispetto cosa devo fare io prego per mio fratello e mangio pure una feta di panettone per lui allora se invece io celebro e l'altro mi vuole condannare neanche io questo accetto questo posizionamento quindi ci vuole qua l'amore la carità il rispetto nel Signore perché non è il fatto che io celebri il Natale il 25 o meno che mi porterà o meno in paradiso ma è la mia fede nel mio salvatore che è morto una sola volta che è nato una sola volta che ha compiuto l'opera della salvezza che è morto è stato seppelito risorto salito in cielo e tornerà non più come un bambino non più per essere messo sopra una mangiatoia ma per venire per prendere il suo popolo e per giudicare e per portare a termine l'opera che lui già ha istituito e che già ha completato perché lui è il Signore quindi è solo una questione di tempo che il nostro Signore sta arrivando amén allora cari come tutte le cose noi cerchiamo la saggezza da colui che dà generosamente a tutti coloro che cercano la saggezza nel Signore l'Apostolo Paolo parla di che noi dobbiamo cercare di essere maturi nel Signore e c'è anche un'altra persona che non è un apostolo ma Giacomo nella sua epistola Giacomo capitolo 1 versetto 5 dice se poi qualcuno di voi manca di saggezza la chieda a Dio che dona a tutti generosamente senza rinfacciare e gli sarà data se hai un po' di confusione in testa io spero di averti aiutato ma vai prega al Signore legge la parola e prendi la tua decisione e fai tutto quello che fai fai per la gloria del Signore infine cari prima di concludere noi abbiamo bisogno di rispondere questo qual è il vero significato del Natale non importa se Gesù è nato il 25 di dicembre non importa se noi non sappiamo la data quello che è importante è capire il messaggio del Natale e che Cristo Gesù deve nascere nel nostro cuore allora qual è il significato Natale il significato biblico questo è il significato biblico la parola di Dio dice poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo onigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia la vita eterna Dio ha tanto amato che ha dato il suo figlio per te perché tu non sia condannato ma sia riscattato salvato attraverso il sangue dell'agnello che è stato versato per noi guardate bene Gesù ci sta promettendo attraverso la sua vita una vita eterna e oggi tu puoi avere questa vita eterna la parola di Dio dice infatti Dio non ha mandato il suo figlio nel mondo per giudicare il mondo ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui lo scopo dell'amore del Signore è che le persone vengono a Cristo e noi vogliamo pregare oggi che in questo periodo noi possiamo proclamare quattro angoli che solo Gesù Cristo è il vero Natale il panettone non è Natale il cenone non è Natale Gesù non deve nascere a mezzanotte del 24 a cavallo del 25 no 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 deve nascere nel mio cuore deve nascere nel tuo cuore e se tu hai creduto nel Signore allora tu non perirai perché il Signore Gesù è venuto per salvare e riscattare inoltre la vera storia del Natale è la storia del Signore di Dio che diventa umano nella persona di Cristo quindi l'umiltà l'incarnazione la responsabilità la sottomissione è il sacrificio di Cristo che pur non avendo bisogno pur non avendo bisogno di me e di te per amore è venuto per riscattare la nostra vita la parola di Dio ci insegna questo e noi dobbiamo rispondere oggi perché Dio ha fatto una cosa del genere perché Lui ama te perché era necessario il Natale ossia la nascita l'incarnazione di Cristo perché avevamo bisogno di un Salvatore io e te senza Cristo siamo separati da Dio non abbiamo gioia nel nostro cuore e più che mai in questo tempo di pandemia ci siamo resi conto quanto l'uomo è fragile quanto non può attingere dal denaro o nemmeno dalla salute una vera soddisfazione ma soltanto da Cristo Gesù noi avevamo bisogno noi abbiamo bisogno di un Salvatore e questo Salvatore non è un primo ministro non è un re non è una regina non è un milionario un miliardario ma è Cristo Gesù non è un governante ma è il Signore dei Signori e il Re dei Re il quale vuole avere una relazione personale con te l'Italia la mia e la tua vita noi abbiamo bisogno di un Redentore noi abbiamo bisogno di avere una relazione con Dio attraverso il nostro Signore Gesù Cristo che è il Redentore allora perché il Signore ci ama così tanto al punto da venire a dare la sua vita per noi perché Lui è l'amore in persona allora perché noi festeggiamo il Natale ogni anno per gratitudine per dire Signore grazie perché sei venuto grazie perché mi hai amato grazie perché mi hai cambiato grazie perché mi stai trasformando grazie perché mi hai consolato grazie per la vita della tua Chiesa grazie per la tua presenza grazie per la tua consolazione grazie Signore perché io sono in vita grazie Signore anche per le battaglie perché tu non abbandoni mai allora noi vogliamo e lo stiamo adorando particolarmente ossia noi vogliamo amare il Signore dimostrare l'amore tra di noi e soprattutto anche pensare quelle meno meno diciamo cosiddetti fortunati ossia persone povere che hanno bisogno che hanno bisogno di un cibo ma che hanno bisogno soprattutto della parola del Signore noi vogliamo essere uno strumento di Dio per portare il vero messaggio del Natale quindi il significato del Natale in una parola è amore di Dio per noi l'Apostolo Paolo rinchiude la storia del Natale in questo Dio invece mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo che mentre eravamo ancora peccatori Cristo è morto per noi Gesù Cristo è morto per te e oggi noi abbiamo la gioia di vivere con Cristo se tu hai riconosciuto il suo amore vorrei finire e concludere questo tempo di Natale almeno per parlare del motivo del Natale con Charles Spurgeon che lui dice questa frase quando il mondo si era ribellato contro il suo creatore e il creatore era stato sfidato dalle sue stesse creature un grande abisso si era aperto tra Dio e l'uomo la prima venuta di Cristo fu come un ponte che attraverso che attraversò il baratro e creò una via d'accesso da Dio all'uomo e poi dall'uomo a Dio il secondo avvento ossia la seconda venuta di Cristo del nostro Signore renderà quel ponte molto più ampio finché il cielo non scenderà sulla terra e infine la terra salirà al cielo Natale vuol dire che Cristo Gesù è con noi Emanuele Dio con noi la domanda è tu sei con Dio oggi tu puoi venire a Cristo Gesù Signore io prego per le persone che sono qui in questo tempo a riflettere riguardo al Natale che possono venire a Cristo che possono conoscere e riconoscere che sono peccatori e che il vero Natale non è fare un cenone il vero Natale non è abbuffarsi il vero Natale è avere Cristo Gesù nel cuore Padre io ti prego nel nome di Gesù che la tua parola possa entrare nei cuori che le persone possono capire che hanno bisogno di Cristo perché noi siamo dei peccatori separati e che noi oggi scegliamo Cristo il vero Natale il vero Natale perché lui è venuto si è incarnato è morto per i nostri peccati ha compiuto l'opera della redenzione è stato seppelito è risorto è risorto Cristo Gesù è risorto e per questo motivo io oggi scelgo Cristo Gesù io credo in Cristo ammetto che sono un precatore io scelgo Cristo Gesù e io dico a te Signore Gesù Cristo entra nel mio cuore e trasforma la mia vita nel nome di Gesù ammet e allora se fai questo il tuo Natale sarà davvero un vero Natale per la gloria del nostro Signore che Gesù Cristo ti benedica e noi ci vediamo presto se il Signore così vorrà nel nome di Gesù un forte abbraccio e un bacio in Cristo nel nome di Gesù e noi ci vediamo